Cristian! Non è Michel? Cristian? E' la mia! Ma dove stai? Ma ci vai? E' tirando, approcciando. Ma vuoi lasciar? Lasciando, vuoi lasciar la parola? E' mandare la parola con la parola, eh? E' una parola che si viva! Grazie! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.